Ormai i colpi alla pizzeria a Largine a Fagare non si contano neppure più. Nella porta si vedono bene i segni delle continue forzature ed il titolare sembra rassegnato. Non la faccio riparare più, tanto a che cosa serve. Lo sa bene perché di furti ne ha subiti davvero tanti. Sì, perché sono 7-8 mila euro ogni volta di danni, fra danni di soldi, porte, macchinette, cambiamonette, troppo che costano. Ma non si lascia intimidire. Ha deciso di postare le immagini dell'irruzione dei ladri sul web. Le telecamere hanno ripreso il terzetto che entra e in pochi minuti asporta tutto quello che può. È arrabbiato e chiede la certezza delle pene. Se devo essere sincero, certezza è la pena, secondo me. Perché se loro fanno danni, a me che fanno 10 giorni di galera non mi interessa. Interesserebbe che lavorassero e pagassero i danni. Solo quello è il discorso. Nell'ultimo colpo i ladri si sono portati via una macchinetta cambiamonette, una slot, un registratore ed una borsa con documenti. L'allarme non li ha di certo impauriti. No, loro sanno che hanno quei 5-10 minuti e si organizzano. Hanno spostato le telecamere. Si vedono lo stesso, ma sono tutti capucciati, quindi riconoscibili. Ormai, dice il titolare, dobbiamo mettere in conto anche questo. Grazie.